Ci siamo salutati affettuosamente, io stima di Gaetano Manfredi, una stima umana e istituzionale, quindi i rapporti personali devono essere sempre corretti, poi vediamo le strade della politica se ci tengono separati o meno, per ora sono separati e io voglio dare un contributo costruttivo a tutti, se qualche candidato vuole avere informazioni precise, compreso Manfredi, magari si evitano poi di dire delle inesattezze, certe volte sulla situazione del Comunità, i numeri sono numeri, non è che li puoi interpretare, poi il numero va anche interpretato, ma bisogna incominciare a dare i numeri corretti.